Amici, buongiorno e ben ritrovati sul canale. Voglio dire buonasera, però questi sono dettagli. Oggi ho deciso di far uscire un video natalizio. Per me è il 22 dicembre e per voi sarà il 25 dicembre. Volevo un attimo farmi gli auguri di Natale in un modo, diciamo, carino, simpatico. E per questo ho deciso di comprare delle lucini natalizio da vendere sulla mia moto. Non ho ancora idea di come fare. E perché mi mancano lo scotch, mi mancano tante cose, ma ho tanta voglia di fare. Quindi mettiamoci all'opera. Ma prima devo recuperare lo scotch. Sono subito, non ho scappata. Ok. Eh, fate la guardia voi, mi raccomando. Ehi, ci siete ancora. Ma che bambino. Buongiorno, benvenuti nella vostra prima azione di Corsio. Ma chi è che fa che cazzo di rumore è lì? Ho trovato lo scotch. Cioè, questi sono 15 centimetri. E le forbici. Bella punta arrotondata, così siamo a serie. Certo, lo scotch è un po' grande, ma è l'unico che avevo in casa. Questo è Art Attack. Pessimo, ho perso le lucivi di nuovo. Forse gli hanno dato fastidio. You stupid. Ok. Tu vorrei fare un unboxing carino. Quindi, facciamo finta che questo sia chiuso. What's in this bag? Video che andavano nel 2013. Ah, momento awesome. Un cavetto che useremo dopo. Delle istruzioni che non ci servono. Un bellissimo telecomando che ci serve, quindi lo mettiamo qui. Non ti muoverai. E... Le lucine. Ma ah no. Questa sti miglioraria. Come si collegano. Sono un attimo triggerato, raga. Ma che cazzo. Ho capito cosa mi manca. Non ce la posso fare a fare sto cacchio di video. Ma questo che cacchio è? Boh. Vabbè, non ci interessa. Così qui sono le lucine. E ora, quello che vorrei io è... Quello che vorrei fare è metterle su tutta la superficie della moto. E basta. Non c'è nient'altro da fare. Quindi, cominciamo con snudare. E poi probabilmente dovrò fare una corsa su. Prendere un coso, un caricatore, un alternatore, un enicottero, un finicottero, un drame. Ma che cacchio si chiama? Un trasformatore. Vabbè, è quello che serve per caricare il blocco, raga. Sono gli occhi del blocco. No, niente. Non mi è venuto bene in questo momento. Asmr. No, 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 no. Separatvi. No. Separa. Sepa. Sepa. Separateli. Ok. Ok. Non è stato facile. Non è stato facile. Guarda, se io devo bestemmiare ogni volta che faccio un video... e poi non so se riuscite a vedere che grumiglio c'è qui non so nemmeno io quello che sto facendo quello va lì ok cosa ce l'abbiamo fatto raga incredibilmente ce l'abbiamo fatto allora via 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 forse quella non avrei voluto lanciarlo e via ci serviranno tanti pezzettini di scotch io comincerei così poi salire tutto poi il cavolo attacchiamo lì scusatemi se vi do le spalle sono un capone lo so ma non so come altro fare il primo lo metterei qui ma immaginate se lo scopriamo tra un'oretta per voi saranno tre minuti ma non è tra un'oretta perché a montare tutto sto coso per le miglia così facile dai nani quello abbiamo messo qua questo tipo così e io ti fermo sono che sto prendendo dei pezzi di scotch veramente grandi e scommetare non è d'accordo un saluto a greta poi questo qui però io lo farei girare attorno alla però ho avuto l'idea di merda no 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 ho avuto una grande idea di merda attaccare fino a questa parte scusate un attimo ma sto processando il da parso mettiamo un pezzettino di il nostro adesivo qua poi l'ho croc questa altra pensura ieri tipo a brutto oh no 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 e niente l'hai voluto tu l'hai voluto tu adesso ti metto tra le nastre che cazzo vuol dire tra le nastre 3 kg di scotch poi l'ho croc così oh no no ma non si tiene lo stesso mi sa 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 ora sta venendo uno schifo è però dettaglio io trovo perché mi sto incasinando da solo beh questa è la storia della mia vita insomma e questa la farei passare sotto il mondo ma che bello poi arriviamo poi è possibile ma non per i coglioni sto litigando anche con delle lucine di merda dio questo è provvisorio è portate pazienza ma come sapete sono una sono un fallimento sto scherzando mamma ok 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 mamma ce l'abbiamo fatto ce l'abbiamo fatta si ragazzi che bello ok e questo lo farei girare tutto intorno qui magari senza rovinare il mio bellissimo serbatoio e questo è un altro pezzo di scotch gentilmente ma con le buone maniere si ottiene tutto è incredibile mi sono scioccato cioè sono abituato a bestemmiare in 14 lingue diverse per ottenere le cose ma a quanto pare con le buone maniere si riesce a ottenere tutto la buone maniere si riesce a ottenere tutto che caspiterina sto facendo della mia vita è venuta una bella merda ma ci piace adesso devo correre a recuperare un alternatore come cacchio si chiama e torno subito da voi eccomi qui tornato con l'alternatore il coso di cui avremmo bisogno e adesso proveremo un attimo a sistemare non so se siete pronti a vedere la cagata che ho appena fatto adesso ce ne la faccio vedere spengo un attimo le luci e raga portate pazienza 3 2 1 ma che fail ah no scusate 3 2 1 no ma raga no 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 mi hanno truffato questo suono e ci dovrebbe essere addirittura la musica no è incredibile no è incredibile sto male ecco proviamo a leggere le istruzioni ero a chi è stato proprio lanciato ah ho capito ci serve il telecomando forse ovviamente ci serve il telecomando voi direte non funziona perché non funziona magari il suo fio magico funziona c'è il video più triste non potevo farlo a Natale ma sono l'unico sfigato che riceve di prodotti non funzionanti gli ho anche pagati 20 euro eh c'è mi sembra strano perché sto parlando bergamasco figa io anche più che attaccare e riavviare come fanno i gradi tecnici non saprei cosa fare signori io ho provato usando anche un power bank per cercare di risolvere questo problema ho provato a scaricare l'app a connettere tramite bluetooth ma non lo legge perché a quanto pare non passa la corrente ci deve essere qualcosa di rotto qui io non sono iachidale e non so come recuperare come aggiustare queste riuscine e quindi posso dire di aver ufficialmente rovinato il Natale a circa 4000 persone e anzitutto voglio ringraziarvi che siete arrivati fino a qui vi auguro buon Natale e non acquistate queste riuscine di merda